I rimborsi sono già partiti ma il Comune di Palermo non solo non intende rinunciare alle ZTL ma a quanto pare non intende rinunciare alle ZTL sospese dal TAR. L'amministrazione infatti ha presentato appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa contro il provvedimento che ha sospeso le zone a traffico limitato. In uno dei passaggi della sospensiva il TAR faceva riferimento a una ingiustificata compressione del diritto alla mobilità dei cittadini. Diritto che secondo i legali del Comune però passa in secondo piano di fronte alle esigenze di tutela dell'ambiente. Da parte sua il Tribunale Amministrativo sosteneva che il provvedimento per come è stato formulato non garantisce questo tipo di tutele. Secondo Bispensiero tra le associazioni che avevano presentato ricorso ci sono due questioni principali dietro la scelta del Comune. La prima è che senza le ZTL e senza i soldi del PAS vengono a mancare le entrate necessarie per pagare i costi di avvio del tram gestito dall'AMAT. La seconda questione dietro la scelta di presentare appello sarebbe di carattere più ampio e non coinvolgerebbe solo Palermo. In realtà non è proprio la ragione del sindaco di Palermo. Evidentemente questa ordinanza è troppo rivoluzionaria e impedisce gli arbitri della politica e delle amministrazioni. Io non so come possa, non mi piace essere complottista, io mi passo sui dati, però è vero che lui stesso ha detto che questa cosa sarebbe un problema per la politica a livello nazionale perché tutte le città d'Italia, dice, dovrebbero fare i conti con questa ordinanza e con i contenuti di questa ordinanza. Grazie a tutti.